Appuntamento a Di Sernia domani mattina a partire dalle 10.30 per la 14esima edizione del premio Aquiladoro International, dedicata quest'anno al tema Ambiente e Salute Pubblica. Il prestigioso riconoscimento sarà conferito al Presidente del Senato, Avvocato Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Monsignor Giuseppe Sciacca, segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, all'Avvocato Giulio Vigliotti, commissario per la gestione del Museo Civico della Memoria di Sernia, al dottor Luigi Di Giulio Medico, chiropratico in Los Angeles. La salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute umana sono diritti del cittadino, della famiglia e delle comunità e dovere delle istituzioni, sia in esse in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale, attuare le migliori politiche per creare un adeguato sistema di tutela. Grazie ai giovani è aumentata la presa di coscienza del rischio che incombe in ambito planetario, ora è auspicabile che anche gli adulti vigilino responsabilmente per la tutela ambientale. Questo è il messaggio che partirà domani in occasione della quattordicesima edizione del premio, patrocinata dal Comune di Sernia, dalla Regione Molise e dal Parco Nazionale dell'Abruzzo, del Lazio e del Molise. L'evento è promosso dall'Associazione Corfinium Mollus con la partnership del Comune di Sernia, dall'Aidosp, dell'Associazione dei Dottori Scienze Politiche, dalla Comunità Sirentina e di Nobili Terre. Alla manifestazione, che si svolgerà presso l'Auditorium Unità d'Italia e Sernia 22 novembre, parteciperanno tre istituti scolastici. Come ormai noto, afferma il professor Fabrizio Politi, presidente della Commissione Scientifica del Premio, è nata dal cuore delle terre italiche, vale Pelinia, allo scopo di rivitalizzare i valori italici attraverso il riconoscimento di particolari meriti, ai discendenti delle famiglie italiche o a persone che si sono particolarmente distinte in azione, promosse a favore del territorio della comunità italica. I premiati di quest'anno, così come nelle precedenti edizioni, continua Politi, sono un grande esempio di valore e di eccellenza che l'Italia può mandare nel mondo. Nel corso dell'evento saranno assegnate anche tre menzioni speciali, al dottor Romolo Dorazio, imprenditore, al professor Agnello Russo Spena, presidente dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo, e al maestro Achille Curtarella, pittore e scultore.